Siamo tutti Babbo Natale, un'iniziativa benefica rivolta soprattutto principalmente ai bambini, ideata dalla piazza comune ma sposata anche dal gruppo terziario donne di Confcommercio. Come funziona? Funziona che chi volesse aderire a questa nostra iniziativa così benefica a beneficio dei bambini e famiglie un po' meno fortunate della nostra città possono recarsi presso il locale The Terminal che è lì in fondo a passeggiata Morin e portare qualche regalino. L'unica condizione è quella che il regalo deve essere chiaramente un regalo nuovo, il valore chiaramente non c'è nessun vincolo, da un euro a salire non ci sono problemi. Quindi è solo un gesto anche simbolico che vogliamo dare e la raccolta quindi avviene presso il locale The Terminal, in fondo alla passeggiata Morin. Ci sarà il tempo fino al 20 dicembre per portare questi regalini confezionati, un piccolo gesto ma dal grande valore, come sta andando nel frattempo la raccolta? Allora la raccolta sta andando benissimo, più di quanto ci aspettassimo perché hanno partecipato tantissimi privati che si presentano col regalino ma anche tante associazioni, tra cui Terziario Donne di cui io faccio parte e la Piazza Comune di cui faccio parte lo stesso. Tant'è che ci eravamo dati come step il 20 per raccogliere i regali appunto e portarli poi a Gianluigi a Meglio, il padre superiore di Gaggiola. E invece adesso ci siamo dati due obiettivi. Entro il 13 i regali verranno consegnati a Fratti a Meglio per il carcere e per la mensa dei poveri. E dal 13 al 20 individueremo un'altra associazione, un'altra comunità, insomma qualcuno a cui dare il resto dei regali perché sono veramente tanti. Grazie.